Facciamo vedere due difese da attacco da coltello, un attacco frontale regolare e un attacco rompichiaccio. Adesso abbiamo visto una difesa sull'attacco regolare con il suo braccio destro, che è paradisimissima. Lui cambia la braccia, ma io farò sempre uguale e farò un apportecco. Grazie a tutti per aver guardato il video.